Ciao a tutti, io sono Vincalania. Oggi è l'escenente, ovvero perché ho due biglietti su questi dove all'interno c'è, sull'interno sono delle parole. Con quelle parole farò delle escenente. Bene, cominciamo con la prima parola. Bene, cominciamo con la prima parola. Prima parola è... Stella. Ah, amore mio, guarda, che stella. Lassù, che bella è quella stella lì, anche quella. Come dice, amore? Non è una stella, è una... Menefizio gigante che sta venendo addosso di noi. Amore, che paura! Adesso, vediamo la seconda parola. Non. Non. La prima... La seconda parola è... Non. Beh, beh, ci proviamo. Non sono... Non... 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 Non ci invoia. Punto. Ora... Queste... Ragazze... Bene, quel tuo video si chiude qua. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, scrivetevi al canale. Ma prima di solitarvi, una cosa devo dire. Se hai votato la vita grigia, solidete, perché avete un'unità sola. Ciao, alla prossima. Grazie.